ehi la ciurma e benvenuti in questo nuovissimo episodio di main test rieccoci tornati qui allora prima che mi dimentichi vi racconto delle belle cose allora punto primo questi alberi qua come potete vedere sono in una posizione differente rispetto all'altra volta perché allora io gli alberi che avevo erano della vecchia modo farming che in realtà adesso non li utilizza più perché quelli gli unici rubber tree che ci sono ora sono quelli della della more trees di vanesse e quindi ho dovuto togliere gli altri perché non mi davano più la gomma però ho scoperto che i tronchi levati da un albero della more trees e ripiazzati continuano a fornire gomma quindi ho preso dei tronchi di cui altri potete vedere qua dentro e li ho piazzati in quelle posizioni la in modo da poter poi farmare la gomma in modo comodo ed efficace forse potrei anche piazzarli tutti attaccati in effetti perché qua non è come in minecraft che devi cercare nei vari punti magari e qua magari e qua magari e qua magari potrei anche mettere tutti di fila così avrei un muro di però no è più carino così si può vedere dall'altro lato che romantico altra cosa di cui vi do un piccolo esempio di qua cosa di cui non ero conoscenza forse per il fatto che sono un po un ritardato mentale no vabbè guardate qua tanti fiori gialli tanti fiori blu tanti fiori bianchi tanti fiori rossi tanti fiori ragioni tanti fiori gialli tanti fiori bianchi allora ho scoperto parlando negli ultimi giorni nella chat rc di mine test che i fiori spreddano cosa vuol dire che spreddano che se tu stai connesso da questo fiore se ne genereranno degli altri insomma ne spawneranno degli altri intorno se ci sono dei blocchi di dirt con con erba sopra che non sono già contagiati da altre cose cioè contagiati che non hanno già altre cose di conseguenza ho provato a farmi un piccolo orticello qua davanti un attimo fa e adesso vedremo poi come funzionerà ne dovrei aver preso uno per ogni tipo ah ecco vedete questo qua si è già sviluppato il rosso il bianco il blu il giallo e il viola dovrebbero essere tutti spero che comunque così spreddino un po così se abbiamo bisogno poi di coloranti abbiamo i fiori vicino a casa in dosi discrete insomma diciamo e quindi niente questo è quanto prima che mi dimentichi vi dico che appunto come avevo scritto nello scorso video mi ero dimenticato del gioco settimanale e chi aveva vinto era stato sebrexanderale che è andato avanti di un altro posto essendo ora alla casella numero 2 laggiù in fondo c'è un albero che dovrò togliere che è uno di quelli vecchi appunto del farming di robber esatto di gomma ecco come si dice in italiano diventa dislessico col passare del tempo due cose ne dovevo dire una terza ah ecco la terza cosa sono i travel pad che ho sistemato come vi ho promesso nello scorso episodio vedete come sono stato bravo come sono stato bravo questa è la stanzetta che abbiamo fatto lo scorso episodio questi due li avevamo piezzati mi pare questo come vedete è acceso adesso ed è collegato a dip che è qua adesso vi spiego anche perché è qua e non è su e questo torna su come facciamo a settare una destinazione una destinazione la settiamo semplicemente facendo tp set e poi mettiamo il nome tipo ciao belli sono simpaticissimo e poi mettiamo invio adesso non me lo prende perché mi dirà che questo punto è già stato salvato per un'altra cosa poi qua possiamo configurare semplicemente scegliendo come list travel points questo qua è collegato a dip e appunto cioè li vedi elencati perché è qua perché sempre parlando ho scoperto che nel frattempo era stato aggiornato cioè nel frattempo ma parecchio tempo fa era stato aggiornato il punto di generazione o l'accio del mese il punto di generazione del mithril e per quello che non ne avevamo mai trovato perché appunto piccoli problemi di compatibilità con le modi vecchie perché l'avevano spostato meno 512 quindi ho spostato la mina la miniera a meno 550 così siamo sicuri perché prima era meno 500 precisi quindi non avrei mai trovato del mithril quindi niente ho dovuto spostare più in giù ho fatto il travel pad a quell'altezza però è comunque sempre là gli scalini continuano da dove era prima insomma adesso per oggi dovremo andare a fare dell'energia assolutamente perché non abbiamo più energia di alcun tipo per questi macchinari quindi andremo a fare dei solar panel come si craftano i solar panel? allora noi abbiamo bisogno di quelli low voltage per cui abbiamo bisogno di 3 di questi per fare uno di questi allora questi qua si fanno con un cavolo voltage che si fa ok con la carta dovrei averne abbastanza e la colla per cui devo cuocere dei sapling se non sbaglio dovrei averne di sapling vero? solo 6? quanti sapling mi servono per della colla? ah un sapling mi da 2 di colla con questi ci faccio bah ok dovremmo farmare un po' di sapling dopo di silicon wafer e silver wire questo ce ne da 2 quindi abbiamo bisogno di un po' di silver e iniziamo facendo questi 2 di sabbia e 2 di coal dust ci danno un silicon wafer noi abbiamo bisogno di 3 silicon wafer per questo quindi 3x3 9x2 18 quindi 18 di sabbia e 18 di carbone tra l'altro spero che regga quello prima che riusciamo a dare energia perché è tutto senza energia adesso ci è rimasto solo un po' di roba nell'affare qua ma ah però non ha il non ha la switching station allora facciamo prima un'altra cosa un altro passaggio allora prendiamo la switching station prendiamo dei low voltage cable e andiamo fuori vai fuori fuori da questa casa ok basta allora facciamo che collegare qua tanto là dietro dovrebbe esserci il cavo se non sbaglio esatto si collega adesso non voglio precipitare giù per controllare vediamo si è collegato non vedo niente oddio là c'è l'acqua si si è collegato e adesso come risalgo che furbo che sono che furbo che furbo che furbo che furbo che furbo che furbo questa mappa possiamo spostarla per ora tanto è abbastanza useless come mappa ok adesso tipo sfasciato tutto il mondo torniamo su torniamo su 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 allora adesso dobbiamo rimettere mettiamo un altro cavo qua e poi ci mettere una switching station qua così dovrebbe comunque collegarsi al network non ha ehm energia cioè non fornisce energia però comunque dovrebbe essere attivo tutto ciò si ok quindi il grinder abbiamo bisogno di grindare no di uno di questi viene da due vero si esatto quindi facciamo così ok e poi prendiamo diciotto di sabbia abbiamo detto eh dove è la sabbia normale non abbiamo sabbia normale ce la prenderà la desert sand temo di no temo di no temo di no proviamoci sempre voglio che sprecare energia proviamo vediamo che cosa succede se succede qualcosa di interessante oppure meno allora intanto qua dovrebbe avere finito esatto nell'alloi qua fornace se mettiamo questo e questo lo fa? sembra di no eh no no allora dobbiamo rimediare tra l'altro nel frattempo voglio aggiornarvi un po' sulla situazione del canale come potete vedere eh mi sono messo un po' più di impegno uh ti arancioni stanno colonizzando il mondo mi sono messo un po' di impegno e le serie stanno uscendo regolarmente avete visto adesso all'attivo ho quattro serie compresa questa eh per un totale di 5 video settimanali e credo che possiate essere discretamente soddisfatti diciamo di come stanno andando le di come stanno andando le cose e io sono abbastanza contento siamo arrivati ai 26 iscritti che non è un numero esorbitante lo so però sono comunque soddisfazioni sono comunque 26 persone iscritte è sempre una bella cosa e e comunque i video che faccio mi piacciono e anche voi mi piacete tanto no e e le serie che sto facendo mi piacciono soprattutto mi sta piacendo un sacco valiant hearts che è quasi finito mi sta piacendo un sacco anche la collaborazione su untarned con marco88 che tra l'altro si sta rivelando anche un un buon amico diciamo con cui discutere delle esperienze su youtube al di fuori insomma e ma crafting ah forse non è nell'alloy furnace forse è nel crafting crafting normale ma eh no sand cold dust silicon va non ditemi che c'è qualcosa che non quadra eh sand e cold dust era tutto così bello contento scusa questo mi dice qualcosa non succede niente perché non succede niente eppure scusate ma silicon buffer due sand method alloying scusa alloy furnace scura là è bene un alloy furnace perché non mi funziona lv full fired mv full fired come funziona? oh con pieno di brick block ma quella funziona bene no? perchè non non forse devo alternarli? no aspetta forse devo solo metterli nelle dosi che dice lui? cosa stai facendo? un 2 e un 2 e un 2 ma è ben collegato no? si è tutto collegato si è tutto collegato sentiteci risentiamo tra un attimo quando scopro che cosa succede ciao rieccoci rieccoci non ho capito come mai non funzioni quello non l'ho ancora capito però ne ho fatta una quella di quelle che vanno a carbone tra l'altro sprecandoci 32 unità di di clay argilla ehm funziona b b adesso infatti sto facendo questi silicon buffer poi farò un un generatore a carbone per quello e vedrò se riesco a b comunque così è andato aspetta adesso facciamo così ci devo mettere gold dust ce l'abbiamo gold dust si è un discreto numero 9 ne ho bisogno questi con 9 di dust tra l'altro forse gli altri che avevo erano anche 9 vabbè non sbaglio se no erano 6 meglio ti 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 stavo dicendo cosa stavamo dicendo prima stavamo dicendo che eh tire è molto importante no stavo dicendo comunque che sono discretamente soddisfatto poi comunque alcuni di voi sono attivi tre principalmente di cui una marca 88 però sono molto contento comunque di voi che continuate a a reggere insomma nonostante il tempo passi passino le stagioni e tutto resta uguale no vabbè ehm quante cavolate dico io la domanda di oggi potrebbe essere quante cavolate dico io in un video ehm e niente quindi sono discretamente soddisfatto adesso sto progettando la prossima serie diciamo per per il canale cioè la serie che sostituirà valiantarts quando questo sarà finito questo è cuocendo quando valiantarts sarà finito e di cui ancora non voglio dirvi niente per non togliervi la sorpresa non ho detto niente a nessuno quindi adesso vedremo un attimo cosa ho il cellulare che fa interferenza temo che faccia interferenze quindi lo sposto dov'è il mio silver? questo? dobbiamo cuocere un po' di silver tra l'altro consumeremo tanto di quel carbone oggi allora quanto silver ho bisogno? 6 naturalmente non ho messo 5 8 no 6 8 6 allora mettiamo qua cuociamo questi facciamo quello poi devo prendere quanti sapling se devo fare allora devo fare 3 unità di colla 3 unità di colla 3 unità di colla quindi 2 sapling diciamo sì possiamo proprio dirlo 2 sapling 2 sapling per il tavolo 4 arriva arrivano subito il signore ecco le mettiamo qua colla e colla perfetto adesso qua no mi sto confondendo non sto capendo più niente 1 2 1 2 1 2 1 2 i cavi mi servono non ce l'ho già cavi colla 1 2 1 2 1 2 3 1 2 3 adesso abbiamo bisogno per gli altri di tantissime robe immagino low voltage ah no i low voltage li devo piezzare così per adesso no è questo arrayed solo a low voltage allora ok abbiamo bisogno di il carbon steel ingot che si fa con carbon coal dust e road iron ingot e ne ho bisogno di quante mi diceva la memoria la memoria che se ne va tra l'altro volevo dire che in questi giorni ho notato due due qua non ne ho bisogno di altri no? no oh ecco mi sono già perso due quindi ognuno di questi ha bisogno di un coal dust quindi due coal dust per il tavolo 4 sempre carbonio lo dimentica tutto qua sto dicendo che in questi giorni è successo qualcosa di particolare qualcuno di voi interesserà qualcuno di voi non interesserà ma secondo me è una cosa che è successo comunque di discreta importanza cioè che il nostro no eh vabbè il nostro caro youtuber Favij ha superato il milione di iscritti e voi direte cosa me ne frega di Favij c'è Favij c'è Favij copia più dai pari è solo un venduto eccetera eccetera e può non piacervi ragazzi ma è comunque da considerare che è il primo youtuber che ha superato il milione di iscritti in Italia e a voi farà schifo però c'è più di un milione di persone a cui piace io allora lo dico per essere chiaro per non perché non per non venire preso comunque in in contropiede contropiede cosa sto dicendo no vabbè diciamo nel senso per essere chiaro io non sono iscritto al suo canale ehm ne sono particolarmente interessato dai suoi video però comunque è una cifra considerevole voi mi direte eh ma guarda che la Rai ha già più di un milione di iscritti da tanto tempo eh guarda che comunque il canale italiano più grande è Qtpie Marzia sì però Qtpie Marzia non parla italiano ok è di nazionalità italiana però non parla italiano nei suoi video sono video fatti in inglese inoltre Qtpie Marzia secondo voi quanti iscritti avrebbe se non fosse la ragazza di più dai pai no sono serio perché c'è tipo in niente ha fatto 4 milioni e passa di iscritti ma perché perché la ragazza di più dai pai e perché la Rai ha tanti iscritti ma la Rai non è neanche uno youtuber la Rai il suo scopo della vita non è fare video su youtube no? e quindi effettivamente è lui stato il primo e voi potete benissimo dire mi sta bene il fatto che non sia un non sia il migliore youtuber italiano perché è arrivato a questo a questo traguardo ed effettivamente anche per me cioè io non considero Favij il migliore youtuber italiano però ho bisogno di un sacco di questi affari qua però comunque non potete negare che il traguardo è c'è c'è perché non hai dormito? ok il traguardo c'è è quello cioè nel senso credo che avrei fatto i complimenti anche se fosse uscito cioè se prima di aver avuto un milione di iscritti fosse stato Frank Matano che è un canale che a me non piace particolarmente perché non lo apprezzo cioè non è che non mi dice niente proprio non mi piace però però se uno arriva a un a un traguardo del genere non è una cosa da niente cioè è sono praticamente una persona un italiano ogni 60 è iscritto al canale di Favij cioè vi sfido a fare un canale con così tanti iscritti anche se anche se vi mettete a copiare eh più dai pai perché se l'ha copiato ci rimane comunque il fatto che l'ha copiato bene perché non è banale fare dei video come li fa lui come ha iniziato a farli lui cioè io l'ho anche conosciuto personalmente l'anno scorso quando in realtà aveva tipo boh 101.000 iscritti una roba del genere l'anno scorso luglio però eh cioè c'era impegno c'era cioè c'era un sacco di impegno in quello che fa lui lui è appassionato da quello che fa lui è comunque ci ha messo del suo per fare tutto questo ha una per fortuna che ha una colla in più eh cooking eh e e quindi boh nel senso questo è questo è quanto però volevo appunto fare questo discorso diciamo nel mio video dicendo che comunque sono contento per lui è un grande traguardo per qualsiasi youtuber ma è un traguardo credo anche per youtube italia perché inizia ad avere dei numeri più considerevoli cioè fino all'anno scorso guardare i canali francesi perché io sono iscritto anche ad alcuni canali francesi c'erano comunque già persone con 6 milioni di iscritti io dico ok eh il francese è molto più parlato al mondo rispetto che l'italiano rispetto all'italiano però questo non toglie il fatto che la figura di youtube in italia conta niente non conta praticamente niente cioè quanta gente eh non conosce le potenzialità di youtube non conosce il funzionamento di youtube non lo segue se voi andate invece negli stati uniti o in francia sono più avanti in queste cose non sono a questo livello scusatemi c'è un rospo nella gola ehm ok dovrebbe fornire energia adesso credo è collegato adesso e quindi sono contento per il traguardo in generale no? perché sì dovrebbe essere collegato perché è una cosa interessante per youtube italia per il fatto che cioè wow per la prima volta youtube italia inzi ad avere dei numeri considerevoli diciamo sì ok si sta ricaricando bene perfetto dovrò farne un sacco di altri e dovrò aggiornare tra l'altro tutti questi macchinari al medium voltage suppongo non ho capito perché questo non funzioni credo che però farò questo off camera perché credo di avervi tediato abbastanza per oggi ma non sono contento di aver fatto questo episodio su mind test perché mind test è comunque la serie su cui possiamo chiacchierare un pochettino di più diciamo cercherò di capire perché questa low voltage alloy furnace non funzioni cioè nel senso se adesso la metto così che è collegata all'energia funziona no eh no stavo per chiudere il video senza fare la domanda di oggi oggi allora la domanda di oggi per la mia carissima ciurma eh adesso concentriamoci momento di momento di di tensione quanti attenzione domanda da un posto sulla scacchiera della nostra wooden chest quanti stack di cobblestone non avevo cioè ho avuto in questo video nella prima chest della stanza della cobblestone ricordo che chi risponde giusto va avanti di una casella nel frattempo aggiorniamo la situazione perché eh nello scorso video eh Xander 9000 Xander piccicicic eh che risponde al nome di Alessandro se non sbaglio ha risposto correttamente dando addirittura il nome di tre carte che ho giocato durante la partita magic e quindi avanza di una casella e rimane abbastanza padrone eh indiscusso della situazione ma invito comunque gli altri miei due cari iscritti Marco88 e ehm Pixies Sam Pixie che cambia sempre nome cambi sempre nome come cavolo faccio a ricordarmelo comunque tu bel bambino che ti piace Crash Bandicot ehm potete partecipare e spodestare il nostro incommensurabile Xander che risponde al nome di Alessandro io vi saluto ci vediamo al prossimo video e statemi bene mi raccomando ciao